ciao oggi volevo farvi vedere una cosa che mi è stata chiesta davvero tanto io ho già fatto un video su come importare dentro blender un modello realizzato in zbrush però molti disegnatori di fumetti hanno utilizzato per anni e utilizzano ancora sketch up che è questo programma qua e quindi viene piuttosto spontaneo chiedere come faccio a portare un modello di sketch up dentro blender o appunto un altro programma soprattutto perché sketch up ha la 3d warehouse che è questo questo deposito enorme di modelli già pronti che sono soprattutto di architettura e di arredamento e vanno benissimo insomma per per poter soprattutto nel mestiere dell'illustratore dove uno non è che ha sempre voglia di di costruire da capo un'intera sedia d'ufficio o qualcosa del genere allora vediamo un po come si può fare bisogna prima di tutto appunto avere un modello in questo caso per esempio ho fatto l'esempio un attimo fa di una di una sedia d'ufficio proprio perché potrebbe essere qualcosa di particolarmente scomodo da dover modellare a mano da zero insomma allora quando abbiamo individuato il modello che ci piace fate anche caso alle dimensioni a quanto è grande o cosa insomma evitate magari quelli enormi vedete voi comunque ovviamente siccome questo è un su questa warehouse ci sono modelli anche inviati dagli utenti non tutti sono di gran qualità allora questo è un modello che ho appena scaricato se faccio doppio click se ci faccio sopra doppio click posso vedere che spesso è costituito da vari pezzi che possono essere mossi separatamente tutto quanto non sempre sono fatti bene appunto comunque da sketchup la procedura più semplice probabilmente è esportare in obj secondo la mia esperienza quindi scegliete come formato di file obj e date un nome al file e mettetelo da qualche parte tra le opzioni importanti sono esportare solo la selezione in maniera che per esempio la donnina non viene esportata o altre cose selezionate quello che vi interessa e fate esporta solo la selezione dopodiché queste potete lasciarle deselezionate però se vi interessano i materiali dovete esportare anche le texture cioè alcuni materiali sono fatti solo da colori altri materiali hanno delle vere e proprie immagini questo esporta anche le immagini dopodiché io di solito scelgo un'unità di misura in maniera da sapere almeno in che unità di misura è l'oggetto ok esporta bisogna aspettare che venga esportato il documento dipende da quanto è grande da quanto è grande il modello esportando così in obj è un formato molto standard e che funziona con molti programmi 3d e allora qui siamo in blender posso cancellare il cubo base e posso andare ad importare import quindi anzi vediamo un attimo vi metto il i tasti in maniera che si veda quello quello che premo e che non premo sulla sulla tastiera vediamo perché non sempre funzionano eccolo qua ecco scusate allora importa così potete vedere in basso a sinistra quello che premo importa wayfront obj vado nella mia cartella e seleziono tra le opzioni interessanti c'è image search appunto che va a cercare le immagini in una sottocartella fate caso quando esportate in obj vi trovate non solo il file obj ma altre due cose vi trovate il file obj che contiene la geometria un file mtl che contiene la descrizione dei materiali e una cartella che contiene le texture queste sono delle immagini che vengono poi messe sul modello quindi se voi dovete portarvi in giro questo modello dovete portarvi in giro sempre tutti e tre gli oggetti lo bj la mtl e la cartella con con le immagini quindi qua in blender mettendo image search di ditte di andare a cercare le immagini nella sottocartella con lo stesso nome allora le opzioni le altre le sto lasciando il di default e facciamo importa ed ecco qui il mio modello è stato importato correttamente e ci sono anche i materiali andiamo a vedere e il eccolo qua il computer aveva delle texture e sono state conservate quindi se sono in questa visualizzazione vedo solo il colore dei materiali se sono in questa o in questa posso vedere anche le texture allora il modello è stato importato e lo vedete qui è stato importato questa è una caratteristica dell'obj come unico oggetto quindi è un unico oggetto che se mi metto a portarlo in giro e tutto quanto si muove tutto insieme può andarci bene però potremmo anche volerlo separare allora come faccio devo andare in edit mode e quando sono in edit mode l'oggetto è costituito da tutti i suoi vertici di solito di default sono già tutti selezionati adesso li vado a deselezionare con alt a allora con a a se io clicco a seleziono tutti i vertici alt a li deseleziona tutti quanti allora per esempio voglio portare fuori il computer qual è il modo più semplice allora il modo più semplice è posizionarsi sopra l'oggetto e premere la l se voi premete la l vengono selezionati tutti tutte le geometrie collegate l l sullo schermo poi io quello che faccio è premere g e provare a spostare se si muove tutto quanto sono riuscito a selezionare tutto ora premola sulla tastiera di per separare e scelgo selezione ora è stato staccato questo computer dal resto degli oggetti sono ancora in edit mode sulla scrivania per cui se premo tab esco dall'edit mode ed ecco qui che ho due oggetti separati ovviamente ha preso il nome scrivania 001 con f2 posso cambiargli nome e chiamarlo pc e ora questo è indipendente da tutto il resto e quindi allo stesso modo posso tornare qui premo di nuovo tab per entrare in edit mode e qui di nuovo alt a per deselezionare tutto per sicurezza con l seleziono quello che c'è però qui ci sono moltissimi pezzettini quindi potrei facilmente dimenticarmi qualcosa vedete se sposto quindi forse la l in questo caso non è la soluzione giusta quindi premo al a mi metto di lato premo b per box la selezione rettangolare e seleziono il grosso di quello che mi interessa dopodiché se voi premete ctrl più sulla tastiera la selezione si allarga ma non esce mai al di fuori delle geometrie separate quindi non si allargerà mai ad altre geometrie quindi alla scrivania se adesso premo la g è esposto mi accorgo che ho selezionato quasi tutto sono rimaste fuori queste cose perché perché come ho detto per quanto voi premiate ctrl più non si sposta mai a queste altre geometrie allora un'altra caratteristica di blender è che seleziona solo quello che si vede e quindi vedete questa rotella in alto questa qui è rimasta fuori perché non era annullo un po perché non era visibile era dall'altro lato quindi deseleziono tutto quanto è importante mettersi in modalità trasparente se vogliamo selezionare tutto la modalità trasparente la si ottiene con un maiuscolo z oppure con questo tastino qui adesso quindi maiuscolo z torna normale maiuscolo z diventa tutto trasparente quando è tutto trasparente quindi in questa modalità di visualizzazione quello che seleziono viene selezionato anche se è al di là e quindi non visibile premo di nuovo la b seleziono questo sposto anche un po la visuale magari sempre con la b seleziona ancora stando attento a non andare sulla scrivania e adesso premo ctrl più un po di volte fino a quando vedo che la selezione non si allarga più adesso se provo a spostare mi sono accorto che sono rimaste solo un paio di isolette allora o di nuovo mi metto in un'angolazione buona come qua e premo la b di nuovo oppure posso mischiare il metodo di prima e quindi quando ci sono sopra premo la l e viene selezionata tutta quest'isola quindi adesso vado di là mi manca quest'altro l e ho selezionato anche quest'altra isola magari è meglio mettersi in seleziona facce sinceramente non l'avevo fatto sposto la sedia si annullo ho selezionato tutto e ora non devo fare altro come prima a parte che posso ripristinare la visualizzazione normale premo la p e faccio selection ora premendo tab per tornare in object mode o la sedia separata e quindi con f2 posso cambiare di nome sedia e adesso questa è separata un altro trucchetto che vi posso dire è che lavorando in architettura è meglio almeno io preferisco muovere gli oggetti non del tutto liberi ma con lo snap alla griglia per attivarlo basta premere maiuscolo tab in questo modo adesso quando sposto la sedia si sposta solo nei nei punti della griglia se rimettete tra l'altro dall'alto o di lato i punti della griglia sono più piccolini e se riesce a spostarsi con più precisione però comunque sempre a step che è un po più semplice nella gestione delle cose architettoniche insomma un'altra cosa che vi posso dire che è utile e che adesso per esempio la lampada non l'ho spostata abbiamo spostato il computer perché per esempio nella mia scena non lo voglio lì ma lo voglio qui allora prima di tutto vedete che quando adesso vado a ruotare questo computer gira attorno ad uno strano punto è il suo centro come era rimasto prima cioè come è arrivato da sketch il centro dell'oggetto si trova qui al centro della scena e vale per tutti gli altri viene evidenziato da blender con un puntino giallo no la sedia per esempio ce l'ha in un altro posto il centro dell'oggetto è quello attorno al quale nella maggior parte di case avvengono le trasformazioni poi si può scegliere comunque però di sicuro per questo computer non ha senso che il centro dell'oggetto sia lì ha senso che sia su di lui se io faccio tasto destro su un oggetto posso fare set origin origin to geometry in questo modo adesso vedete il punto si è messo diciamo al nel nel punto intermedio di tutta la geometria e quindi se adesso vado a ruotare blocco la z in maniera ruota attorno a questo centro se proprio non è quello il punto che volete mettere perché comunque si trova a mezz'aria per esempio per la sedia non ha molto senso questo centro allora un'altra cosa che si può fare è spostare il il cursore nel punto in cui si vuole il centro quindi vado inquadrare la sedia di sotto se io premo maiuscolo tasto destro il cursore si sposta nel nella posizione in cui ho cliccato siccome qua non c'è nessuna nessuna geometria qui sotto non c'è un tappo non l'ha beccato perfettamente essendo qui ovviamente lui cerca per esempio se faccio maiuscolo tasto destro qui vedete che si è posizionato su questa faccia qua giù la faccia non c'è quindi se io faccio maiuscolo tasto destro su una ruota la becca se lo faccio qui me lo mette sulla parete del tubo vedete che è nel posto sbagliato un modo col quale posso risolvere è entrare in edit mode selezionare quello che mi interessa quindi per esempio questo cerchio e adesso con maiuscolo s posso scegliere di spostare il cursore nella selezione cursor to selected adesso il cursore è stato messo al centro delle facce che ho scelto posso uscire dall'edit mode tasto destro set origin origin to 3d cursor e adesso l'origine è messa lì per esempio se la voglio mettere per terra potrei semplicemente selezionare una faccia qui una lì una lì quelle più basse diciamo di queste ruote adesso posso fare maiuscolo s cursor to selected ed ecco che il cursore va in mezzo alla selezione quindi qua giù esco dall'edit mode tasto destro set origin origin to 3d cursor in questo momento quindi ho spostato l'origine lì ed è molto più facile se voglio ruotare l'oggetto ruotarlo esattamente attorno al suo centro adesso dicevo se io prendo la scrivania e la porto in giro il computer rimane fermo quindi un'altra cosa che si può imparare a fare è di far diventare un oggetto genitore di un altro voglio per esempio che il mio computer si lo voglio spostare lo voglio mettere qua e lo voglio ruotare però quando sposto la scrivania voglio portarmi dietro anche a lui allora cosa faccio seleziono l'oggetto figlio poi con il tasto maiuscolo seleziono il genitore vedete che il genitore rimane di un arancione più chiaro e l'altro è di un arancione più scuro se io seleziono più di un oggetto l'ultimo che seleziono è sempre di un arancione più chiaro e in qualche modo è un oggetto più importante degli altri l'ultimo che ho selezionato quindi pc scrivania col maiuscolo e se premo ctrl p che sta per parent posso dire set parent to object in questo modo adesso il computer è stato assegnato come diciamo figlio della scrivania e anche lo vedo qua nella descrizione della scena vedo che scrivania se apro il triangolino c'ha pc sottostante al suo interno quindi adesso se sposto la scrivania si sposta anche il computer ovviamente sono ancora libero di spostare il computer altrove e poi di nuovo se prendo la scrivania quindi in pratica applicando una una modifica al genitore la modifica viene apportata anche a tutti i figli mentre invece all'inverso se sposto se modifico qualcosa su un su un oggetto figlio non non succede niente al genitore quindi questo è il modo nel quale che io preferisco per portare oggetti da una parte all'altra adesso con maiuscolo tab un attimo disabilito lo snapping ecco torno qua adesso ovviamente siete dentro blender quindi potete fare quello che volete finire di costruire la scena a vostro modo potete illuminarla potete fare insomma quello che normalmente potete fare dentro blender se ci sono come ho già detto nell'altro mio tutorial potrebbero esserci delle stranezze negli oggetti a livello di di texture qualche effetto strano eccetera ricordatevi di andare su sulle proprietà della geometria geometri date fare clear custom split normals data se per sbaglio vi accorgete che ci sono come erano nel caso di questa lampada vedete adesso annullo vedete che ha che non è perfetta che ha degli effetti strani capitano esportando una geometria da da sketch up o da altre parti ricordatevi se vedete un aspetto strano di questo clear split normals data insomma e quindi niente adesso è qui adesso ho migliorato un attimo le ombre e quindi potete farci quello che volete insomma ecco qua spero che sia stato utile perché molti sono i disegnatori che utilizzano ancora sketch up però come sapete io personalmente comincio decisamente a usare blender per la maggior parte delle cose che faccio in ogni caso diciamo che preferisco ormai ci ho preso mano e lo preferisco non c'è nessun motivo per non continuare a usare sketch up però di sicuro non possiamo pensare di ottenere tutto quello che che otteniamo qui dentro insomma per esempio il rendering di questo tipo appunto molto più realistico è decisamente difficile soprattutto appunto gestire le ombre le luci comunque anche in blender potete facilmente ottenere un rendering non realistico utilizzando invece che quindi simile a quello di sketch up andate a vedere gli altri miei video sull'argomento comunque insomma se voi invece di ivi scegliete workbench avete un rendering molto più simile a quello appunto di sketch up in cui avete semplicemente delle linee più semplici e potete oppure appunto sempre con ivi ricordatevi che potete sempre potete attivare freestyle che vi permette nel momento in cui fate un render di avere le righe attorno ai vostri oggetti vedete sono venute delle belle righe ci sono mille opzioni per freestyle magari va la pena un giorno anche vederle comunque insomma ci sono vari motivi per poter volere portare un oggetto dentro blender e spero che questo video possa avervi chiarito alcune cose grazie mille e alla prossima